eccoci bentornati sul mio canale veloce video short meno di un minuto solo per dirvi che ho appena aggiornato la pagina del sito fatto il post su facebook che vi lascio in descrizione a questo video con la possibilità di scaricare il verbale dell'audizione del direttore dell'agenzia delle entrate di una riunione che ha fatto al senato la camera adesso non me lo ricordo che ci spiega alcune cose che usciranno in un prossimo provvedimento molto importante dell'agenzia delle entrate ovviamente stiamo parlando di super bonus vi saluto ciao alla prossima